Quest'amici è una storia senz'altro non comune che riguarda un influencer inglese che ha subito un sacco di interventi, ma parliamo di decine e decine di interventi chirurgici per poter modificare il suo aspetto in quella della famosa bambola, ma soltanto che adesso ha fatto un attimino i conti e vorrebbe tornare ad essere un uomo. Aveva speso quasi 250.000 sterline, 290.000 euro, in interventi di chirurgia estetica per assomigliare a una bambola Barbie, ora ha deciso di fare una detransizione e diventare Ken. Il 33enne inglese Holly London, di Hertford, non è nuovo a questi cambiamenti totali di aspetto fisico per inseguire la celebrità. Nel 2018 aveva rivelato di aver speso oltre 75.000 sterline in interventi chirurgici per assomigliare alla star del K-pop, G-Man, della boy band sudcoreana BTS. Poi il suo desiderio è cambiato e ha deciso di diventare Barbie. Adesso l'ulteriore cambio di programma, come riporta il Daily Mail, con la decisione di assomigliare al fidanzato della bambola, Ken, mentre la sua migliore amica Alia Rosa, 37 anni, si fa chiamare Barbie. Alia ha speso milioni negli anni per vivere la sua vita come una vera Barbie. L'anno scorso abbiamo partecipato entrambi al Festival di Cannes come Barbie. Ma quest'anno, da quando mi sono detransizionato per tornare a essere un uomo, siamo come Barbie e Ken e ci siamo fatti fare dei vestiti su misura abbinati che indossiamo per i red carpe del Festival di Cannes e della mostra del cinema di Venezia e per qualsiasi altro evento speciale, ha spiegato London. Sebbene abbia speso centinaia di migliaia di sterline per il suo aspetto esteriore, dice di essere alla ricerca di qualcosa che, manca dentro, parlando delle sfide che ha affrontato lungo il percorso di scoperta di se stesso e della consapevolezza di poter essere Ken senza fare, cose dannose. Quando mi sono trasformata in una donna ho avuto tutte queste lodi e questo amore, ma mi mancava qualcosa dentro. Pensavo che tutti i miei problemi personali fossero dovuti alla mia identità di genere, ma poi ho capito che non era così. Ho fatto terapia e sono andata in chiesa. Fare tutti questi interventi non mi rende felice, ha spiegato concludendo. Avevo bisogno di togliermi questo vestito e ho capito che posso ancora sentirmi una bambola a Ken senza fare cose dannose. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.